che ci faccio con la birra già nel bicchiere a inizio video beh sto semplicemente rifacendo da capo il video e registrando nuovamente dopo essermi accorto che la telecamera non stava filmando ma siccome non posso sopportare il grado alcolico di due stile nacht non posso aprire in una seconda e registrare da capo tutto quanto quindi dopo aver evocato divinità pagani dai nomi antichi riregistro questo questo video appunto con la birra già versata come anticipato la birra di oggi è la stile nacht siamo in belgio birrificio de dol il nome appunto di questa birra la stile nacht ho messo su questa scheda 20 nel 2020 e due asterischi per indicare appunto che è la versione la cotta di quest'anno e due asterischi vedremo dopo il significato lo stile quello delle cares beer le birre natalizie o per attenerci al nome indicato dal bjcp le winter seasonal beer categoria 30 c grado alcolico di questa birra 12 gradi bottiglie da 33 centilitri e bicchiere suggerito direi pallone o anche tulipano no non si tratta di un primo assaggio né per quanto riguarda questa specifica cotta di quest'anno né ovviamente in generale per le stile nacht prima di tutto direi di fare una breve introduzione su questo stile che quello appunto delle birre natalizie delle cares beer categoria che comprende uno spettro piuttosto ampio di di birre tendenzialmente stili legati alla zona europea mitte europea belga in particolare ma ci sono anche stili tedeschi che vengono brassati per il periodo invernale tipicamente stili con gradazioni un po più alte o versioni più alcoliche di siri tradizionali tedeschi questo perché una delle caratteristiche delle cares beer è sicuramente il grado alcolico sostenuto che aiuta con l'effetto di warming riscaldante aiuta ovviamente a trascorrere le serate invernali appunto le cares beer tra le altre caratteristiche possono specialmente quelle belghe dove si fa largo utilizzo di spezie possono avere una speziatura anche più generosa o anche una spezzatura diversa quella che la stessa beer rappresenta diciamo durante il resto dell'anno quindi avere una variante che so allo zenzero per il periodo invernale o cose di questo tipo esistono anche nella recente soprattutto moda delle birre lupolate anche delle versioni di birre lupolate invernali non so delle imperiali magari brassate da qualche birrificio proprio per il periodo invernale però storicamente lo stile delle cares beer è un po' legato tutti quegli alcolici mi viene in mente l'italiano in italia il vin brulee quindi alcolici a volte anche scaldati a volte cotti ma appunto con un'aggiunta generosa di di spezie per quanto riguarda il birrificio de dol è birrificio appunto che si trova nelle fiandre particolarmente famosa la sua stile nacht e particolarmente famosa è la variabilità di anno in anno la stile nacht viene brassata solo per il periodo invernale va infatti ordinata con largo anticipo sulla fine estate più o meno per riuscire ad avere qualche bottiglia di stile nacht e lo dico soprattutto se siete rivenditori o publican e birre che appunto vanno ordinate in estate quindi io ho ordinato un po' di bottiglie per l'attività dove lavoro ignaro del lockdown che ha colpito perlomeno io registro adesso qui dalla Lombardia i mesi di novembre e dicembre quindi fortunatamente è una birra che si vende da sola perché altrimenti mi toccava berla bermele tutte da solo di sera in casa ma sarebbe stata una scena un po' triste ma mi sarei sacrificato se ce ne fosse stato il bisogno dicevo variabilità legata sia al fatto che la ricetta può variare di anno in anno sia legato al fatto che sui tappi della stile nacht ci sono quei famosi asterischi come indicati sulla sulla scheda e asterischi che io fino a qualche anno fa avevo letto erano legati alle diverse cotte ai diversi batch produttivi in realtà un paio di anni fa è uscita un'intervista al master birraio di the doll dove afferma questa comunque è la dichiarazione quanto poi ci sia di vero non so perché alcuni commentatori molto più esperti di me fanno notare che probabilmente la risposta data dal master birraio di the doll in questa intervista fosse un po' di facciata ma era da stesse nascondendo qualcosa comunque questa risposta tra virgolette ufficiale ufficiale viene spiegato che gli asterischi sui tappi sono legati solo al lotto di imbottigliamento quindi il primo set di birra che viene imbottigliato ha un asterisco il secondo due asterischi e così via perché in realtà poi le diverse cotte vengono blendate quindi mescolate assieme non sappiamo se sia vera o no questa cosa però il giochino sta appunto ogni anno andare ad assaggiare com'è la still and act di quest'anno birra che tra l'altro potete fare invecchiare tranquillamente io di solito una me la bevo e una la metto a invecchiare quest'anno avendo avuto tempo di ordinarne una quantità un po più importante ne ho già avevute altre per essere sicuro e proprio su questo fattore della variabilità si inserisce secondo me anche il discorso della mancanza di un valido controllo qualità da parte del produttore un paio di esempi giusto per stare sull'attualità queste sono due bottiglie estratte dalla stessa scatola come vedete questa quella che ho versato mentre me la telecamera non stava registrando manca completamente l'etichetta considerando che sono birre che hanno un costo non indifferente che vanno ordinate e pagate in anticipo per le attività avere una birra non vendibile per questa birra non è vendibile senza etichetta è una perdita ed è una cosa che alla maggior parte dei birrifici non verrebbe concesso ma a the doll per qualche strano motivo possiamo permetterci possiamo concedergli queste cose forse in realtà va vabbè questa me la sono bevuta io me ne sono bevute altre di quelle che avevo ordinato ovviamente però appunto c'è la questione di questa mancanza di controllo qualità e a cui aggiungo la questione che non mi era mai capitato anche se l'avevo letto ma a quanto pare non è così raro trovare bottiglie con qualche piccolo difetto in realtà quest'anno proprio siccome ho già bevuto quattro still and act una di queste aveva un sentore di formaggio che nelle altre della stessa scatola o di altre scatole non avevano è una cosa che boh non era invadente il lupolo un po vecchio potrebbe dare sentore di formaggio e in alcune birre può capitare di trovarlo era una cosa leggerissima ovviamente però se c'era in quella bottiglia nelle altre tra che ho bevuto non c'era in questa che ho aperto adesso nella parte ho già usato e non c'è quindi l'unica cosa che era difettata con la bottiglia lì non ci sono altre altre storie altra cosa che appunto boh per qualche strano motivo the doll è concesso a fare questa cosa senza rischiare la shitstorm mediatica che altri birrifici magari più recenti si prenderebbero con una bottiglia fallata per passare all'estetica delle bottiglie allora the doll ha sempre questa doppia etichetta la prima con questo fiocco il culore può cambiare nelle varie bottiglie tappo semplice con data di imbottigliamento poche altre informazioni e l'etichetta inferiore è sempre una unica etichetta con una grafica differente da bottiglia a bottiglia quella della stile nacta il logo di the doll in versione pupazzo di neve con in mano anche un bicchiere di stile nacta la birra prima di passare all'analisi organolettica a questo colore ambrato ma è brassato utilizzando solo i malti pale il che significa che sono malti chiari pallidi gialli in realtà il colore un po più scuro è dato da un bollitura molto 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 lunga che tende a far caramellare parte del degli amidi degli zuccheri di questo malto e ottieni così si riesce ad ottenere così un colore appunto un po più più scuro più verso questo ambrato quasi aranciato per quanto riguarda appunto l'analisi visiva di questa birra allora la schiuma ormai si è smontata completamente ma non era una schiuma particolarmente abbondante sicuramente è una schiuma persistente vedete che forma questo bel pizzo come si chiama in in gergo quindi questo bordo attorno al bicchiere a contatto con il vetro molto persistente io ho registrato anzi quasi registrato un video perché avevo solo l'audio del microfono non avevo la parte video dopodiché sto riregistrando quindi sono diversi minuti che questa birra è nel bicchiere e vedete che è ancora persistente ma il cappello di schiuma o meglio la parte iniziale di schiuma che c'era nel momento del cui ho versato la birra si è smontata molto velocemente per quanto riguarda il colore di questa birra è sicuramente un ambrato ed è piuttosto velata questa birra si in direzione del faretto si intravede un pochino il logo da questa parte del bicchiere ma proprio malapena è piuttosto velata come come birra passiamo quindi al naso al naso emergono due cose due più uno direi la prima cosa che davvero gli esplode nel naso è la parte fruttata buonissima davvero c'è la famosa frutta pasta gialla c'è sicuramente dell'albicocca secondo me c'è della pera frutta matura forse in generale però sicuramente si c'è una parte fruttata molto intensa e buonissima c'è davvero è un naso molto succoso mi fa già pre gustare la bevuta che arriverà tra poco c'è una parte alcolica evidente stiamo parlando di una birra da 12 gradi quindi sicuramente c'è una parte di alcol che emerge poi adesso non so quanto duri l'invecchiamento miglior la maturazione della stile nata è imbottigliata ottobre però potrebbe essere rimasta appunto fermentare o meglio a maturare in un fermentatore diversi mesi birre molto alcoliche bene che facciano maturazioni lunghe di diversi mesi ne abbiamo parlato qualche punto da fa sulla sulla triple questo perché molti degli alcoli superiori che si sviluppano durante la fermentazione quindi per alcoli superiori intendiamo alcoli con una catena con più atomi di carbonio rispetto all'etanolo quindi che ha due atomi di carbonio alcoli più lunghi possono essere particolarmente pungenti nel naso ma la maturazione fa sì che questi alcoli vengano trasformati in esteri che invece hanno più morbidi tipicamente fruttati e quindi una triple o comunque una birra una strong gale particolarmente alta in alcol potrebbe avere questi sentori pungenti se molto giovane e poi andrà ad ammorbidirsi bene con con la maturazione qui però stiamo parlando di una birra da 12 gradi quindi è difficile nascondere il l'aroma di alcol quando stiamo parlando appunto di una birra da 12 gradi terza e ultima cosa è terza per intensità ma non per importanza c'è una piccola piccolissima punta di speziato potrebbe essere il lievito che da queste cose potrebbe essere l'aggiunta di qualche spezia però sicuramente inferiore per intensità rispetto a questa frutta che arriva subito con il naso e no non c'è quel formaggio che ho trovato per ora in una sola bottiglia che a questo punto sì mi viene a pensare potesse essere difettata passiamo quindi al palato che dire più o meno quello che ci aspettavamo con il naso un'apertura davvero dolce mielosa quasi che vira abbastanza velocemente verso l'amaro perché sicuramente non è solo una birra dolce e meno male che arriva in fretta questo amaro perché non finiamo sicuramente sullo stucchevole quindi questa apertura bella dolce all'inizio un po' amplificata anche da questo alcol importante poi viene subito compensato da un amaro non particolarmente lungo persistente ciò che mi resta adesso è quasi solo il warm il calore in bocca dato dall'alcol ovviamente percepibile dall'inizio quasi all'inizio del sorso fino a post sorso però sicuramente questa dolcezza c'è e un pochino un pochino di amaro si torna dopo ma molto molto leggero il corpo devo dire che non è particolarmente sostenuto è un corpo non leggerissimo ma comunque forse unito anche questa bassa carbonazione è un corpo piuttosto leggero sicuramente una birra molto attenuata anche per questo grado alcolico ma appunto si riesce a bere abbastanza facilmente o meglio molto facilmente considerando il tasso alcolico elevato differenze con le stile nacht del passato ammetto di non avere una memoria così buona vi lascio qui magari la scheda di quella dell'anno scorso forse una speziatura maggiore in quella dell'anno scorso non ricordo forse una cosa del genere come dicevamo prima quando si parla di stile nacht e sicuramente vi imbatterete su qualche forum su qualche gruppo facebook eccetera di gente che vi dirà sì ma quella del 2008 era tutta un'altra cosa e magari voi nel 2008 io nel 2008 probabilmente bevevo ancora la asai quindi che ne sapevo io dalle birre buone nel 2008 e quindi purtroppo non si può essere diciamo completamente oggettivi con con queste birre perché quelle del passato in qualche modo ci sembreranno sempre più buone faccio sta che è sicuramente approvata la stile nacht di quest'anno nonostante la mancanza di controllo qualità nel da parte del del produttore quindi questa è la stile nacht 2020 to earth risk in school nonostante la mancanza di controllo qualità nel corso di controllo qualità nel corso di controllo